Anche Caltanissetta, Insittini, in Viale della Regione e all'interno dello Stadio Palmintelli, studenti e studentesse e cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, proprio come le 158 città d'Italia di sabato scorso, per esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che lottano contro il regime iraniano. Una mobilitazione nata in città dall'iniziativa promossa dall'Associazione Onde Donne in Movimento. Siamo qui perché abbiamo deciso di sostenere la protesta delle donne iraniane e la loro richiesta di maggiore libertà. A loro si sono unite anche gli uomini iraniani ed è forse la prima volta che questo avviene. È una protesta forte contro la brutale uccisione di una ragazza di 22 anni, Masha, colpevole di non aver indossato bene il velo. Le ragazze non protestano contro il velo, protestano contro l'obbligo del velo. Siamo qui in solidarietà di tutte le donne perché quell'episodio che è successo a Teheran è veramente un episodio gravissimo soltanto perché il velo era messo male e la polizia politica iraniana ha ucciso una donna. Questo noi lo combattiamo e lo combatteremo sempre perché le donne vanno rispettate, ma non solo le donne, ma vanno rispettate tutti gli esseri umani. Per cui questi episodi che succedono all'interno di situazioni gestite da regimi totalitari sicuramente vanno combattuti in tutto il mondo. Lo slogan che ha attraversato il mondo è stato ripreso ed è donna, vita, libertà, tre parole chiave con a fianco l'icona dell'immagine di una donna iraniana con i capelli liberi che si trasformano in simbolo della resistenza di un popolo sottomesso a un regime teocratico dove i diritti fondamentali sono violati ogni giorno. Messaggi di solidarietà, sostegno, fratellanza della città al centro della Sicilia porta ad Europa.